Siamo per spedire un frigorifero a doppianza della Tecnodon, usato, revisionato e garantito 6 mesi. In questo caso, come vediamo qui, si è applicato un potenziometro per la ventola interna, frigorifero a temperatura positiva, oltretutto anche lo scuolo per il pesce. Sono state messe le griglie nuove, il cliente riceverà le griglie nuove, ci sono le guide. Adesso il motore si è fermato perché abbiamo impostato la temperatura a 3, è una temperatura positiva, abbiamo impostato 3 come temperatura. Appena si discosterà dalla temperatura che noi abbiamo impostato, ovviamente la macchina ripartirà a lavorare per riscendere nuovamente a 3. Da qui, come vi dicevo, possiamo regolare la velocità e la potenza della ventola del motore, tasto spegnimento, tasto di accensione. qui c'è il quadro per la lettura esterna della temperatura, ecco ad essere ripartito perché deve riscendere di temperatura, che vi consigliamo però sempre di vedere come funzionano bene i parametri prima di applicare delle modifiche. la chiave è imballata e inviata al cliente.